Ciao ragazzi, siamo qui nel video oggi ragazzi, siamo qui perché volevo dire il programma di questo fine settimana Nel video scorso, un paio di video fa, avevo detto che se raggiungevate i 5 iscritti facevo la mia live reaction della serie A Ragazzi, sono stati raggiunti e quindi ragazzi farò la live reaction Sabato e domenica, quindi il video uscirà lunedì Oppure farò uscire sabato sera, ora non lo so, vedrò Quindi ragazzi, volevo solo dirvi questo, iscrivetevi al canale, mettete la campanella per non perdere nessun altro video E mi raccomando, anche mettete like a questo video per vedere il secondo episodio da vita da youtuber Ragazzi, finisce quel video e ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao